Tutto questo cibo era tra i rifiuti! Vorrei tanto una bicicletta! E vai! E vai! Ehi, Cyborg! Finalmente è Natale! Sai che cosa dobbiamo fare? Decorare l'atrio! Alla grande! Wow, wow, wow! Finitela subito con queste sciocchezze! Non capite proprio che il Babbo Natale sta osservando ogni nostra mossa? Lo fate per finire sulla lista dei cattivi? Nessuno può sfuggire al suo sguardo penetrante! Proprio nessuno! Ehi, fagli vedere come facciamo! Cosa? Sì, esatto! Ora quell'allegro grassone non può vedere niente! Così quest'anno possiamo essere cattivi quanto ci pare! Geniale! Questo significa che non siamo più il costretti a essere i buoni! Mi ha sentito! Oh, è meglio che tu non guidi! Ma siete quasi arrivati! Mamma! No, non sto guidando! Ma sono fermo in un'area di servizio! Faccio benzina! Sì, siamo partiti un po' più tardi per alcune bravate di Craig e Jessica! Ehi! Beh, guida piano! Ma fai in fretta! Abbiamo i bicchieri, ma non i piatti! Abbiamo la carne, ma non le verdure! L'albero senza i regali! E stanno arrivando gli ospiti! Beh, per fortuna arriveremo dai nonni presto! Ci si vede! A presto! Bernard, come hai potuto tradirci con quella bugia? Ci sono occhi dappertutto, fratello! Non provare a trascinare il mio nome sulla lista dei cattivi insieme a te! Sì, questa è tutta colpa tua! E non si danno le chiavi a te, ragazzini! Cospita! Compleanno e feste sovrapposte, che gran sfortuna! Quando tocca a te festeggiare, sono già tutti in giro! Beh, sai che non siamo proprio in vacanza e poi Bimo non è veramente nato! Sì, immagino! Ma non devi essere così tecnico a riguardo! Evviva! Sta arrivando Mo! E mi porterà una sorpresa per il mio compleanno! Mo è il più intelligente del mondo! Oh, mamma, oh, mamma, è arrivato! Evviva! Evviva! Oh, tu non sei Mo! Ma certo che sono io, Bimo! Oh, va bene! Ehi, Mo! Nuovo taglio? Wow, Mo! Chi è caduto al tuo corpo? Oh, quel vecchio coso! Devo ammettere che si è guastato parecchi mesi fa! Non sono più il bravo costruttore di una volta! Non come il nostro piccolo Bimo! Tu hai tutto il mio amore e anche il mio affetto! Grazie! Beh, abbiamo fatto la torta! Non sappiamo se... Chi sarà? Non lo so, ho un po' paura! Ehi, un momento! Un tizio in costume sta bussando per entrare fuori orario! Avete capito che succede, vero? Sì, come no! È Babbo Natale! Incredibile, è proprio lui! Facciamolo entrare! Ciao, Babbo Natale! Ma salve, orsetti! Scusa, ma tu non fai sempre ho ho ho? Eh, ehm... Sì! Ho ho ho! Ho 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 ho! Grazie a tutti.